Il segno dell'acqua gloria, tutta la storia vinarà, odore e vittoria. Grazie a tutti. Questo sangue non è un grande voto da consultare, è ancor meno un nostro cittadino, la cui funzione è quella di predire scritture o frutture per la città. No, la reddita che noi vediamo è semplicemente un segnale stradale, un indice di un tanto che rimane dalla necessità, all'urgenza e all'esigenza di seguire in modo radicale il tangente di Gesù, lasciandosi attrarre la presenza di sempre dalla sua bellezza di terra felice, ascoltando con cuore e mente aperta la sua parola di vita e di speranza. È un momento importante, molto bello, molto sentito, molto partecipato a tutta la città. San Gennaro è un grande simbolo della città che va al di là anche della fede religiosa, quindi in cui tutti si riconoscono. È un momento importante non solo di raccoglimento, ma anche di rinnovato impegno della città verso il futuro. Io penso che deve dare forza ai napoletani per credere nelle loro capacità, nelle loro qualità e amare sempre di più la propria città. Viva San Gennaro! Viva San Gennaro! Grazie.